Una via stretta, strettissima, per una Lega Pro che ogni giorno sembra un filo più complicato confermare. Il Teramo vive giorni complessi in attesa del giudizio di venerdì, quando la Covizoc, a ridosso dell'Assemblea dei Soci, deciderà se la documentazione che gli è stata inviata a mercoledì scorso può essere ritenuta ideone all'iscrizione al campionato. Gli indicatori dicono essenzialmente di no. L'indice di liquidità 07 e la necessità, in ogni caso, di dover introdurre liquidità all'interno delle case societarie per il ripianamento dello squilibrio finanziario sono fattori dirimenti e che non possono subire deroghe di alcun genere. Se dovesse arrivare lo stop, come appare ogni giorno, più probabile la strada sarebbe quella del ricorso fino al Consiglio federale del prossimo 8 luglio che certificherà le partecipanti al prossimo torneo di Serie C. È chiaro che il pronunciamento del TAR di qualche giorno fa sull'indice di liquidità per la Lega di Serie A ha erroneamente fatto pensare che fosse una valutazione del merito mentre si trattava soltanto del rigetto di un'istanza cautelare rispetto a una decisione del Collegio di Garanzia del CONI di cui però non sono ancora rese note le motivazioni. Il perché del pronunciamento TAR è dovuto essenzialmente a questo. Non si è ancora entrati nel merito di una vicenda che in ogni caso ha visto le compagini delle tre leghe adeguarsi ad un indice che, ammesso che arrivasse un'iscrizione in deroga, cosa altamente improbabile, dovrebbe comunque essere ripianato successivamente. Per questo la strada è molto complicata, al limite del miracoloso. Anche perché, come aveva anticipato a caldo la FIGC, subito dopo la pronuncia del Tribunale Amministrativo, la questione giuridica sulle liceità dell'introduzione del suddetto indice rimane oggetto di futura decisione di merito dello stesso Tribunale Amministrativo. Come affermato nell'ordinanza, si legge, la decisione non riguarda i manuali per le licenze nazionali per l'iscrizione ai campionati di B e C. Insomma, la sensazione è che anche a Teramo in molti siano pressoché rassegnate all'idea di dover lasciare dopo anni il calcio professionistico. Oggi c'è la pronuncia del Tribunale di Roma sull'istanza presentata da Davide Ciaccia, ma i termini per ripianare il disavanzo sono scaduti sei giorni fa e le società sapevano una settimana prima, il 14, a quanto ammontava il diseguilibrio finanziario avendo il tempo di metterlo a posto, cosa che tuttavia a Teramo non è accaduta. Il perché di tutto questo sarà ovviamente materia di discussione. Ripartire da una categoria più giù è un'eventualità, non una certezza, sia chiaro, ma ogni giorno che passa la via sembra farsi sempre più stretta.